9 febbraio 1891 Nasce Pietro Nenni, politico italiano che ha rappresentato per oltre mezzo secolo la storia e gli ideali del socialismo e del Partito Socialista Italiano. Muore a Roma il 1 gennaio 1980, quando il Partito Socialista è ormai saldamente nelle mani del suo delfino, Bettino Craxi. Enzo Biaggi, addetto di Nenni, conosceva la gente. La signora Carmi...